ah eccolo si chi è signora l'idraulico è però chiamato un quarto d'ora fa io eh ci sbrighi ringrazio che ci ho messo un quarto d'ora signora vuole poche chiacchiere decimo piano si arrivo cominciamo bene guarda ecco c'è da sistemare questa caldaia lo vedi che gocciola si lo vedo signora si è rotta allora senta c'è un pezzo da cambiare no vado dal ferramenta lo prendo lo monto e poi compro un pezzo dal ferramenta no no ma scusa mi mando la mia donna dal cinese che ha gli stessi pezzi scusa come dal cinese signora ma guarda che costa pochissimo non è che spenderà chissà che cosa ma costa di più però aspetti aspetti guardo se ce l'ho io un pezzo di ricambio che di solito ce l'hai ma è fortunata signora ce l'ho io mi metto il mio tranquilla ce l'ho ce l'ho e senti quando hai finito ci sarebbe la caldaia del piano di sotto sai dove vanno gli ospiti c'è una scala c'è una porta destra dove si va bene va bene vado vado giù sta rompipalle eccomi signora ho finito ho finito hai fatto tutto bene quanto ti dico allora su 120 euro signora come 120 perdonami io di solito spendo massimo 50 proprio se va male 120 signora ho lavorato su due caldaie capito cosa c'entra due caldaie se è venuto una volta sola perdonami due caldaie io ho fatto due caldaie in più c'è pure l'urgenza che sono venuto subito in più ci ho messo pure i miei pezzi e ho cambiato addirittura funzionavano ma no ma io non ti ma adesso non li ho comunque come non ce li ha signora puoi tornare dopo che vado a prelevare no perdonami io devo andare ad un altro cliente però signora non ti ma 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 non ti